Insieme 16 punti la formazione gaiaritana mentre l'Atalanta deve recuperare una... In mezzo c'è Sitibe, lo vede Giabba, poi però c'ha traffico, dentro subito l'imbucata per Piccoli che deve girarsi. Piccoli va col destro e il resto lo fa ancora lui, ancora è Brimacollei che porta in avantaggio l'Atalanta con l'azione coreale. Inventa Roberto Piccoli e poi finalizza è Brimacollei, 1-0 Bergamasco. E qui la differenza l'ha fatta proprio Piccoli, grandissima giocata del centroavanti della Dea che è andato a controllo dentro l'area di rigore. Troppo spazio gli concede Carboni, disattento anche Boccia che si perde completamente. L'Atalanta la mette tutta sulla difensiva ora, tocco dentro intanto per l'inserimento in mezzo all'area di rigore, arriva l'uno contro uno, il team in porta! E la rete di Ladinetti, Ladinetti che pareggia i conti con il capitano del Cagliari all'improvviso. L'inserimento dentro l'area di rigore, toglie tutto, maglia e va a festeggiare davanti ai suoi tifosi. Ladinetti è l'uno a uno, il Cagliari che riesce comunque a produrre il massimo sforzo trovando anche il gol del pari con Ladinetti. Grandissima l'azione sulla sinistra da parte di Ladinetti, riuscito con l'1-2 a superare la pressione di Renault. Leggermente fuori, i cittadini ha liberato spazio in quella porzione di area. È stato bravo poi Ladinetti con il primo controllo ad accentrarsi e andare a battere sul secondo palo quasi di punta. Un incolpevole Ndiaie. E questa volta non ha potuto farci nulla. Occhio alla possibilità, il pallone dentro, Ndiaie con i pugni riesce ad allontanare. Poi Giabba deve mettere fuori, insiste ancora il Cagliari. Attenzione intanto alla ripartenza per l'Atalanta, tocco in profondità, attenzione perché va in porta direttamente. Ancora Finardi dentro, Piccoli! 2-1 per Gamasco e torna in avanti ancora l'Adea. Ancora con Piccoli decisivo, questa volta fa gol e Piccoli mette una sentenza fondamentale sul match. La rete di Piccoli, 2-1 Atalanta, gara pirotecnica nel finale. Contropiede incredibile, ripartenza micidiale da parte dell'Atalanta su un calcio d'angolo a favore del Cagliari, si sono fatti trovare impreparati i ragazzi di Canzi, ma gestita benissima dai giocatori dell'Atalanta. Qui è bravissimo il neoentrato Finardi che a due tocchi va a servire, Piccoli, freddissimo davanti a Ciocci. Battere il fischietto in bocca e dice che può bastare, vince l'Atalanta. Blitz Bergamasco, 2-1 sul campo del Cagliari. Atalanta.